Buongiorno a tutti e ben trovati con un nuovo appuntamento dedicato alle interviste. Oggi abbiamo nei nostri studi il sindaco di Gosaldo, giocondo dalle feste, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito e per essere presente qui negli studi di Radio Piave. Con il sindaco di Gosaldo parleremo di un argomento di stretta attualità e scottante visto che si sta per avvicinare il primo anniversario del disastro provocato dalla tempesta Vaia. Il territorio di Gosaldo è stato uno dei più colpiti in provincia di Belluno, forse si è anche parlato poco di quello che è accaduto a Gosaldo e ci è sembrato giusto ripercorrere con il sindaco quei momenti del 28-29 ottobre dello scorso anno e capire un po' che cosa è stato fatto in quest'anno per risollevare il territorio. Sindaco, che ricordi ha di quelle terribili giornate di fine ottobre dello scorso anno? Beh, innanzitutto buongiorno a tutti e grazie a voi per avermi invitato. È un brutto ricordo perché io ho vissuto l'alluvione del 66 e ho ripercorso quei brutti momenti anche il 29 ottobre dell'anno scorso. La peggior cosa era l'assenza di corrente elettrica, di energia elettrica e la mancanza di comunicazioni. Perché in quella serata io ero in comune assieme agli operai e si sentivano botti, colpi, vento, la pioggia battente, però non si sapeva cosa succedeva al di là della strada. Certo. Proprio per la mancanza di energia elettrica e per la mancanza di comunicazioni. Mancanza di comunicazioni che si sono protratte fino al venerdì, in cui c'è stato qualche baslume di connessione. Quindi siete stati praticamente da lunedì, quindi 4-5 giorni senza connessione e senza possibilità di telefonare e purtroppo eravamo anche con una radio sola in comune che faceva da tramite. per cui il primo impegno che ci siamo presi dopo l'alluvione e con le prime donazioni abbiamo acquistato delle radio, 4 radio, in modo da poter avere una copertura, diciamo, del territorio. Proprio perché se una con una radio sola o rimaniva in municipio, però chi andava fuori era solo, oppure se andava fuori con la radio chi era in comune non poteva comunicare. E quindi queste sono state le più grosse difficoltà. La seconda, la prima difficoltà, la seconda difficoltà è stata proprio la mancanza di energia elettrica. La mancanza di energia elettrica che è stata superita in parte dall'arrivo dei gruppi elettrogeni che però hanno avuto qualche criticità nell'approvvigionamento della benzina, poi del gasolio e così. La corrente elettrica, la mia frazione è stata una delle ultime a essere raggiunta dal gruppo elettrogeno, è arrivata il lunedì successivo. Quindi una settimana. Quindi una settimana con tutto quello che comporta, non per quel che riguarda l'illuminazione è così. Ma poiché oggi come oggi le case maggiormente sono servite da impianti di riscaldamento con l'apporto di energia elettrica, il gasolio, il gas, anche le pellet, la gente non poteva riscaldarsi. E quindi abbiamo avuto grosse difficoltà da quel punto di vista. E le frazioni che sono state maggiormente colpite, che hanno subito il numero più elevato di danni e che sono rimaste anche isolate per molto tempo. Sì, allora in generale la zona più colpita è stata quella di Tiser e in parte molto colpita anche la zona di Sarasin. Le frazioni sono state praticamente isolate due o tre giorni perché poi in qualche maniera si è riusciti con i volontari e con l'avvento delle forze di protezione civile alle quali bisogna dare un grandissimo ringraziamento sia ai volontari locali sia a quelli che venivano fuori perché sono stati fondamentali. Pian piano si è riusciti a raggiungere tutte le frazioni e anche ad aprire le strade. L'ultima strada che è stata aperta era quella che collega Gosaldo con Forciana Franca e con Tiser. Per cui chi voleva andare a Tiser, anche la scuola, ha dovuto tenerle una settimana più chiuse perché il Pumino doveva fare il giro per Forcella Aurine, Frasene, Voltago e Riva Monte e quindi con un'ora e mezza di percorrenza. Ecco che ho tenuto la scuola chiusa una settimana in più degli altri comuni. La strada, dicevo, quella della SP3 che collega Gosaldo con Forcella Franca e Tiser è stata aperta il 13 di novembre. Quindi proprio così. Le altre strade purtroppo anche quelle che servono le frazioni sono state via via aperte in qualche maniera per dare la possibilità ai residenti di avere la possibilità di spostarsi però è stata molto difficoltosa l'apertura perché ogni rigolo è diventato un torrente, ogni torrente è diventato un fiume e l'acqua esondata ha scavato, ha portato via, ha eroso le strade, le sponte e quant'altro. E tutti gli alberi che erano anche a bordo strada ci sono lasciati sulla strada per cui ci sono state enormi difficoltà e anche adesso se uno percorre sia la SP3, la SP2, la Vale del Miss e anche la 347 si rende ancora conto di quello che è stato e di quanto c'è ancora da fare. Certo. Anticipato proprio la domanda che volevo fare, a distanza di un anno quanto c'è ancora da fare e quali sono gli interventi fondamentali che sono già stati realizzati per cercare di mitigare il rischio e mettere in sicurezza il territorio? Allora noi come tutti i comuni penso ci siamo dati da fare per porre all'attenzione degli organi competenti tutte le nostre criticità. È evidente che le criticità sono tantissime, abbiamo avuto dei riscontri positivi e altri riscontri che verranno portati avanti con le prossime annualità perché la Regione con i soldi che ha ricevuto dal Governo Centrale ha fatto degli step successivi 2019, 2020 e 2021 per cui noi siamo arrivati ad avere delle contribuzioni per il 2019 che ammontano circa 250 mila euro per le strade silvopastorali per metterli, sistemarle in modo da poter effettuare lo sgombero del legname abbattuto per quei lotti che abbiamo venduto. In più la Regione ci ha dato 400 mila euro per la sistemazione delle strade, 200 mila euro verranno proprio fatti lavori a poco, a breve, sulla strada vecchio confine per sistemare due frane che sono importantissime e sono quelle che in occasione di una piccola brentana potrebbero ancora interrompere la viabilità in località Mele e in località coda. Sono degli interventi di regimazione delle acque composa di tumbotti di varie misure e però non sono diciamo definitivi perché perché a valle di questi tumbotti bisogna fare delle briglie, delle scogliere in modo da contenere il territorio. Purtroppo su tutte le strade della zona di Gosaldo e della zona di Tiserre in cui abbiamo moltissime frazioni con strade molto strette e su versanti infermi ci sono tante frane che devono essere ancora sistemate. E' stato fatto, sono stati fatti qualche interventi, molti interventi da parte di Veneto Strade che era lente interessato, lente attuatore, soggetto attuatore sulle strade di Selle, sulle strade di Lavedere, sulle strade di Rennes e altre. Però bisogna ancora comunque intervenire per poter dare una tranquillità. Perché diciamo c'è un po' di preoccupazione, non vi sentite, gli abitanti non si sentono completamente in sicurezza. Qual è un po' lo stato d'animo? Allora, è evidente che tutti vorrebbero tutto e subito e questo non si può fare proprio per quello che ho detto. Il discorso è che ci sono degli interventi che possono essere fatti subito e degli interventi che devono essere fatti con progettazioni, con un'idea precisa di quello che si può fare. Sono interventi che dovranno essere fatti nel tempo perché è stato dimostrato che gli interventi fatti post alluvione 66 sono stati fondamentali nel preservare i centri abitati e nel preservare la viabilità perché la prevenzione è prevenzione e quindi è importantissimo. A questo proposito, quando si parla di Gosaldo non può non venire in mente appunto l'alluvione del 66 il collegamento è automatico e la devastazione che portò tutta la zona di California. Parlava di interventi fatti in seguito al 66 che hanno poi mitigato anche le conseguenze della tempesta Vaia. Quali sono stati questi lavori che hanno permesso che le conseguenze della devastazione di Vaia fossero meno pesanti di quelle che avrebbero potuto essere se non ci fosse stata prevenzione? Beh innanzitutto, beh io mi ricordo l'alluvione del 66 perché era piccolino però l'ho vissuta e mi ricordo benissimo e mi ricordo che c'erano frane apertutto e i collegamenti erano interrotti, sono stati interrotti per tanto tempo, mancava anche allora l'energia elettrica però ci si rendeva meno conto perché oggi siamo più dipendenti da questa cosa. Gli interventi, beh quelli più maggiori sono stati quelli nel centro di Gosaldo con tutte le briglie e l'incannalamento dell'acqua del rio Valdimolini per cui quest'anno, cioè l'anno scorso, con Vaia abbiamo potuto osservare che la Valdimolini fu scaricando un milione di metri cubi d'acqua, perché direi milioni, era un canale, praticamente non aveva più le cascatelle come di solito, era un canale però è servita ottimamente a far defluire le acque senza creare disagi nel centro del paese. Però tutte e anche le briglie che sono state fatte nei vari torrentelli e così hanno mitigato quello che è stato la possibilità di ulteriori danni. È evidente che dove non erano stati fatti questi interventi la porta di materiale detritico e la caduta di alberi che sono stati quelli che hanno fatto, perché il vento ha provocato questa caduta degli alberi, nonostante anche ci sia stata parecchia acqua, sono andati a intasare gli albi dei torrenti, quindi sono esondati e hanno creato delle frane anche dove non ce n'erano e giù giù fino alla valle del Mis praticamente abbiamo tutti i piccoli ruscelli che sono in tanti torrenti come dicevo prima e sono intasati e quindi bisogna provvedere a fare il taglio all'asporto del legname. In questo periodo i servizi forestali lo stanno facendo in vari punti sia per liberare le strade ma anche adesso in questo momento preciso stanno lavorando sulla sulla val di Rorer vicino all'abitato di Lambroi che è molto scoscesa ed è intasatissima da detriti e da alberi e abbiamo pensato di mandarli là proprio per il fatto che un'eventuale esondazione metterebbe a repentaglio sia le case che la strada. E a proposito di alberi schiantati il territorio di Gosaldo ha un'elevata percentuale e un'elevata quantità di metri cubi di legname caduto a terra? Da stile della regione noi abbiamo 1860 ettari di bosco a terra quasi totalmente divisi a metà fra territorio comunale e proprietà private e le proprietà private sono quelle verso nella zona di Forciana di Tiser partendo dall'Ambroi, Reng, sul su, Lavedero, Selle, fino su a Stamere e dalla zona di Sarazin. Naturalmente si sono creati in quel momento piccoli tornado che hanno distrutto 10, 20, 30, 50 alberi qua e là e quindi sono ancora magari tutti a censire però quelle sono le zone maggiormente colpite. Per quel che riguarda invece il territorio comunale abbiamo circa 18.000 metri cubi di legname ma forse anche di più nella zona di Cristo del Traversale, Forciana di Line e le abbiamo vendute a una ditta toscana che dovrebbe intervenire in questi giorni per poter incominciare a sportare il legname. Poi altri 8.000 metri cubi li abbiamo venduti nella zona di Margonola, Acqua dell'Abissa e Pian del Gall e poi ci sono altri lotti più piccoli in località Campigol, Campaz e nella località Piagher e Domatore. Devo dire che il Piagher che è il colle sopra Sarazin è una zona valanghiva quindi in quel posto non potremo togliere gli alberi se non facendo un intervento di regimazione, di posa di barriere di sicurezza proprio per le valanghe. Devo dire che comunque adesso avendo venduto questi due lotti siamo a buon punto solo che aspettiamo che vengano portati via insomma. Certo, certo. In questi mesi si è parlato spesso anche di svendita del legname. Cosa pensa di questo argomento e anche per esperienza diretta? Noi abbiamo aspettato un po' anche sul suggerimento di tecnici dire non vendete subito perché adesso vedrete che adesso sembra che non sia tanto legname ma in effetti verrà anche rivalutato in seguito e noi abbiamo fatto i lotti mettendo un prezzo base di 25 euro quindi i lotti sono stati giudicati per un prezzo superiore che non è poco perché altri comuni hanno realizzato un prezzo inferiore diciamo che noi i nostri boschi sono comodi perché quello di Cristo Attraversale è a 500 metri da Forza Laurina e quindi è agibile c'è un posto molto comodo per l'esbosco e anche la zona di Fradiforca, Margonola e così è servita da strada molto ampia e quindi è andato via bene insomma io ritornerei un po' a ragionare alla situazione del post alluvione del 66 anche per fare qualche riflessione sulla tematica dello spopolamento Gosaldo era, adesso mi dirà lei i dati aggiornati comunque era il comune d'Italia con il numero più elevato di frazioni erano 99 se non erro prima dell'alluvione del 66 cosa è cambiato da allora? quali sono anche le dinamiche quali sono state le dinamiche della popolazione anche negli ultimi decenni? questo è un tema è un problema scottante Gosaldo è in fondo la classifica dappertutto ma è in testa la classifica per lo spopolamento per lo spopolamento siamo proprio in cima alla classifica dall'alluvione del 66 bisogna dire che le frazioni erano 99 adesso sono circa 55 che sono comunque tantissime e noi dobbiamo purtroppo fare i conti con questa come posso dire emorragia emorragia con questa emorragia di capitali anche oltre che di capitale umano ma anche di risorse perché dobbiamo naturalmente portare servizi anche dove ci sono poche persone certo dal 66 il comune di Gosaldo ha avuto un'emorragia di circa 600 persone negli anni post alluvione 770 perché? perché le persone che hanno perso la casa a Gosaldo alle persone è stata data la possibilità di costruirla altrove fuori comune quindi i volti si sono spostati nella Valbelluna è stato un crollo demografico importantissimo che la Gosaldo non si è più risolevato è evidente che anche Gosaldo fa parte di tutta la montagna e anche forse direi della Nazione Italia il cui natalità non ce n'è e quindi la gente lascia la montagna lascia il proprio paese per andare più vicino al posto di lavoro e nonostante tutto noi siamo ancora fortunati perché? perché avendo Luxottica ad Agordo parecchie persone vivono ancora a Gosaldo se non ci fosse Luxottica sarebbe ancora peggio è evidente che sul territorio non c'è tanta possibilità di posti di lavoro quindi di produzione del reddito che forse sarebbe quello che potrebbe dare uno stop all'esodo e al decremento demografico si parla tanto di fibra però non ci sono aziende che si mettono in discussione e che mettono capitali per costruire o fermarsi a instaurarsi a cos'altro e tornando al discorso del 66 era diverso il modo di vivere perché c'era l'agricoltura c'era la parecchio perché è migrazione per cui gli uomini andavano all'estero e ritornavano la moglie coi figli rimaneva a casa che oggi come oggi non è più così e adesso non c'è più agricoltura perché ce n'è pochissima ci sono aziende agricole ce ne sono un paio abbiamo il problema della ricettività dal punto di vista turistico e anche della ristorazione perché abbiamo un agriturismo e un ristorante a Forciallorine ci sono due bar e quindi a Gosaldo il centro adesso al momento è provisto di bar quindi un punto di aggregazione a Gosaldo non c'è è ben vero che quest'estate gli amici della piazza hanno aperto sabato e domenica il tendone per poter dare un ristoro però mancavano i giornali poi manca il panificio adesso sembra che il panificio ritorni non si sa bene così sono tutte queste piccole cose che messe assieme creano un disagio molto importante quindi è dura insomma è dura però mi sembra anche di capire che da parte sua ci sia una certa fiducia anche nelle possibilità del paese e penso potrebbero svilupparsi non so progetti di ospitalità diffusa per rilanciare in qualche modo il territorio comunale c'è qualcuno che crede nelle potenzialità e in qualche modo si impegna per andare contro questa tendenza che sembra inarrestabile io sono ottimista di natura quindi credo che si possa avere qualcosa oltre che quello che è stato di fatto per l'ospitalità diffusa ci era creato una sinergia tempo fa per vedere se si poteva andare avanti adesso tramite il agordo e i comuni del poi si è fatto ancora qualcosa si sta cercando però il problema è che la gente sono tutti diciamo per fortuna stabilizzati in luxottica e quindi hanno un reddito che non li chiede non implica la necessità di avere un secondo lavoro o un reddito alternativo si ecco questo è un grosso problema cioè è un grosso vantaggio certo diciamo sempre io dico sempre guai se non ci fosse luxottica però naturalmente la gente ognuno di noi a parte qualche raro caso che bisogna dire che ci sono non vede la necessità di crearsi un doppio lavoro un secondo lavoro un part time un'integrazione del reddito certo che è un grosso problema perché le potenzialità ci sarebbero tutte Gosaldo dal punto di vista del panorama della salute della tranquillità dell'aria buona veramente non è secondo a nessuno lo dico perché beh forse io abito in un posto in cui c'è un paio di esagio a 360 gradi ma insomma non c'è un posto in cui non ci si possa beare abbiamo anche le maghe in montagna in alta quota che sono bellissime che sono accessibilissime da tutti non sono fuori del mondo e hanno dei panorami stupendi per quel che riguarda anche la possibilità di ricettività nei paesi nelle frazioni ci sarebbe sì solo che ci vorrebbe un po' di impegno per 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 mettere in in moto questo in moto tanti affittano ok ci sono anche dei bad and breakfast sì e quindi c'è questa diciamo voglia di fare però siamo ancora in pochi siete ancora in pochi mettendo l'appartamento in in affitto sì per parte dell'anno sì delle seconde case sono aperte a Natale e ad Agosto sì il resto dell'anno c'è molta richiesta perché tramite il parco e tramite le varie i vari social così si potrebbe trovare un'alternativa e una un e l'arrivo di gente sì però bisogna comunque che uno si metta e deve anche dedicare del tempo ovvio non ci si può improvvisare certo però insomma facendo un una una squadra certo potrebbe anche diciamo creare una sinergia in modo tale da poter avere più accessi e quindi più accessi più gente che va a movimento più possibilità per magari uno che vuole aprire un bar di avere un ristorantino di avere la necessità la potenzialità per una clientela anche perché ovviamente si aumentano gli arrivi e poi è tutto collegato e non e non e non focalizzata solo su certi periodi natale e ferragosto certo perché il turismo adesso vediamo che non è più quello di un mese la feria in un mese non fa più nessuno si uno fa weekend massimo massimo una settimana una settimana e gira 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 e tutti sono hanno l'ambizione di vedere posti nuovi e io direi che Gosaldo è un sogno selvaggio perché è veramente una definizione non sono selvaggio e ovviamente però per arrivare a Gosaldo devono esserci tutti i collegamenti sicuri e a un anno da Vaia ritorniamo al discorso iniziale si la situazione adesso è abbastanza abbastanza tranquilla abbastanza si diciamo che comunque le strade dopo Vaia sono state riaperte certo e ci sono ancora dei bucchi qua e là che sono transennati e quindi sarebbe necessità di sistemarli è evidente che i lavori in tutta la provincia sono tanti Veneto strade che è il soggetto attuatore ha centomila lavori centomila progetti centomila cantieri tantissimi e quindi è un po' la pacienza così è evidente che quello che ha la frana avanti alla casa vede solo quella ovvio uno deve girare la provincia per vedere in giro come sono le strade forse noi siamo un po' tralasciati siamo un po' fuori dal circuito perché noi nonostante che ci siano tre quattro strade che portano a Gosardo la 347 sia dal Primiero che da Agordo la SP3 da Agordo e la SP2 sia dalla Valbelluna e verso la Valle del Mis che è caratteristica così in questi giorni Veneto strade sta facendo asfalti e quindi già sembra di che la strada diventi più larga e quindi è un buon segno è un buon segno evidente che comunque ci sono ancora tanti piccoli tante piccole cose tante grosse cose da fare perché tutte le barriere sono incidentate bisogna sistemarle sono brutte a vedere ci sono ancora alberi come dicevo anche i nostri del comune che abbiamo venduto sono ancora là con le teste mozzate che sono fanno brutto vedere passare sulla strada però insomma porteremo via un po' di pazienza e così e la viabilità è comunque il nodo principale certo se non ci si muove non si vive non si lavora e così dopo devo anche fare il plauso perché nonostante tutto sono stati fatti molti interventi verranno ancora fatti poi ci sono state delle criticità tre mesi la chiusura sulla Valle del Miss che era impensabile perché i danni sulla Valle del Miss non erano proprio così grandi da poter dire beh la chiudiamo per tre mesi un paio di interventi fatti subito però insomma cosa vuole che ti dica io come ripeto forse non abbiamo battuto i pugni abbastanza perché forse chi batte i pugni di più ottiene di più non è il mio carattere di battere i pugni però abbiamo cercato sempre con le buone maniere di ottenere quello che era più possibile a questo punto io devo anche ringraziare sia Veneto Strade i geni civili i servizi forestali che si sono andati a fare l'assessore Bottacin Nicola dall'acqua dalla regione il dottor Artico e quante altre che si sono messi diciamo in discussione purtroppo forse eravamo un po' fuori dalla linea di Rocca Pietore ed è quello che è stato forse non siamo stati soggetto di tante attenzioni cioè minori rispetto a altri nonostante che comunque Gosaldo e forse direi anche Sant'Omaso sono stati i comuni più scolpiti dopo Rocca perché noi non abbiamo avuto l'invasione delle case da parte di materiale solido però i tetti gli alberi che sono caduti sono stati una roba uno passa per la zona di Tisera o passa per la zona di Sarasin piole coda così vede ancora i segni perché ci sono ancora tantissimi e probabilmente non è stato neanche fatto un bilancio definitivo dei danni perché anche il vento avendo colpito così a macchia di leopardo le zone è difficile arrivare ma diciamo che la zona di Tisera non è a macchia di leopardo è tutta è tutta la zona di Piole è uguale poi in giro ci sono anche magari il problema è che passando si vedono delle seconde case vecchie seconde case che erano state abbandonate dopo l'alluvione quindi magari mantenute in buono stato diciamo buono tra virgolette adesso sono senza il tetto poi con i vigili del fuoco le protezioni civili sono state fatte dei tetti un po' qua un po' là dove c'erano più necessità poi chi abitava le case si è dato a fare le ha sistemate si è fatto il tetto nuovo e naturalmente adesso ci sono ancora tanti lavori però come ripeto prima bisogna anche fare degli step successivi certo va bene allora io mi avvierei a conclusione dell'intervista se non ha altro altro da aggiungere anzi le chiederei un'ultima cosa che era un ragionamento che facevamo anche fuori fuori di intervista video prima California è diventato un po' il luogo anche della memoria del ricordo della tragedia ma anche simbolo della necessità di prevenire di evitare che cose così gravi si ripetano è possibile che California possa diventare qualcosa di più di un semplice luogo di ricordo e voi annualmente portate avanti delle cerimonie appunto in cui viene ricordato quello che era caduto nel 66 ma avete mai pensato a qualcosa di più di questo ma California è stata distrutta nel 66 e alla confluenza di due torrenti specialmente la gosalda che è molto ripida e quindi è brutale direi quindi è impensabile costruire la zona di California ha ancora l'ex albergo Bisoli fatiscente che è anche diciamo transennato perché è pericoloso e quindi potrebbe essere un luogo della memoria però assolutamente non ricostruibile con le dovute precauzioni si potrebbe creare un paesaggio così proprio ricordo un luogo della memoria un luogo della memoria sì 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 però ricostruire no e viene sbalorizzata ogni anno perché da anni la proloco di Gosaldo e Dolomiti insieme alla proloco Monti del Sole di Sospirolo fanno una festa e la seconda domenica di agosto mi sembra così la dico brutta in cui Sognando California e loro creano dei percorsi partendo da Gosaldo una volta di qua una volta di là oppure anche vari itinerari che erano dei sentieri vecchi che sono stati sistemati sia dalla proloco che dai pompieri del fuoco volontario di Gosaldo eh ai quali devo ringraziare anche quelli ma dovrei forse faccio una parentesi sì certo vorrei ringraziare anche tutte le associazioni i cacciatori e la proloco e i vigili del fuoco volontario adesso eh magari mi dimentico qualcuno perché gli alenchi sono sempre così ma veramente gli alpini perché eh hanno fatto tantissimo per i sentieri quelli in alto ma anche per la sistemazione delle strade quindi si sono veramente dati da fare e quindi eh ogni anno fanno questa manifestazione Sognando California che tra l'altro è partecipatissima è partecipatissima perché ci sono oltre 500 persone e e quindi eh viene valorizzato proprio l'abitato di California l'ex gioiellino che prima del 66 era diciamo il ritrovo anche di molta gente della Valbelluna perché la Bergobissoni era un centro di aggregazione diciamo di ballo di feste da ballo di matrimonio così veramente al top purtroppo è perso e anche non non recuperabile ricostruibile sì perché è proprio in mezzo ai torrenti quindi è a rischio no certo va bene grazie sindaco ringraziamo ancora Giocondo Dalle Feste per aver accettato il nostro invito per aver portato la sua testimonianza un anno dalla tragedia di Vaia e attendiamo poi se lo vorrà che di rivederla nei nostri studi per per un bilancio magari fra qualche mese per capire un po' eh come sono proseguiti ulteriori interventi e quelli che sono anche in corso attualmente grazie ancora Giocondo Dalle Feste grazie a tutti per l'ascolto e al prossimo appuntamento arrivederci buona giornata grazie a tutti voi